3 giorni no no tutto eh no però c'ho eh si vengo solo i due giorni che c'ho ma sono io se puoi andare a caffare perché quando non c'avete da lavorare io c'ho due ore comunque in questa parte ma c'è pure io che c'è un po' ma vedi che il problema è te Fabio che ti va a lavorare ieri io ho detto e te le quattro no magari ho detto mi devo tenere libero tutto hanno creato la giornata di oggi per me sono live bomber pure io ah ma là c'è caschi pure te no c'è caschi te di live bomber invece che flash sport io non so flash sport davvero? io la live non c'ho mai capito niente io uso live bomber non uso flash sport mi chiede un'applicazione flash sport insomma Fabietti di sordini vede sto mese no ma ieri dico un po' da solo non c'è un capellino si vede dico un po' da solo perché? no se c'hanno troppi campi da solo non ci passiamo cioè ci passiamo no scusa non stavate in due non ci passiamo mai io proprio non ci passiamo io ci passiamo solo ma io ci passiamo solo Fabio che conosce il posto che abbia ancora un po' di difficoltà cioè no io ci passiamo solo diciamo ho fatto meglio io bello questo come si chiama questo ramo? solo che senza spiegazione l'hai collegato te ma non lui no non ti messo solo quando rimetterà tutti i turni che ci sarà è quella una delle cose che mi costruisce devo stare pure a spiegare cose che entra la gente capisca eh no io ci hai rimesso te che ci sei andato la mattina tu hai messo te due che lavora bene bel gol bravo fare le dirette e faremo la stessa cosa ah ah giustamente perché uno si sposta appena a singola tanto vale la diretta ma pure la squadra stessa che viene a giocare magari che fai invece magari c'è la diretta ti ho mandato che? quando sono andato io a ripialli che si soppistà vantiti subito ma pensa che il giorno dopo ho fatto vedere quello si è girato tutto il destro eh gli hanno dato tre giornate a quello che si è girato e cinque a quello che è partito questo periodo ieri sera è stato con noi pure qua ci stava lui ha raggiunto ieri già Marco Abbettini è venuto qua sì sì bello bello oh devi bravo sì own bravo non c'è nessuno in mezzo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Parco Me lo vuoi consigliare a te Quello di intervista Me lo vuoi consigliare a te Una vittoria